Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video, oggi siamo di nuovo su Clash Royale perché sì, esatto, mi è arrivata voce di un metodo interessante, non troppo legale per ottenere baule, qualsiasi tipo di baule, qualsiasi tipo di leggendario, cioè tutto quello che volete, gratis sembra, oddio, it's a fucking incredible motherfucker, però dicono che funziona non ho mai provato, faccio questo video a titolo informativo e vi ripeto, non fate questa procedura non so se funziona, io soltanto ve lo ripeto, è titolo informativo e basta intanto apriamo sta giant chest, così, ok, ok va bene, fornace e arcieri vabbè c'ho sta giant da aprire, c'ho anche questa, vi spiego il linee massima come si fa allora, voi sapete no, c'è la possibilità di shoppare su Clash Royale, è normale tutti sanno che si può shoppare su Clash Royale, intanto ci facciamo una partitina con sto deck vediamo, giusto per, che fa da sottofondo un po', tutti sanno che c'è la possibilità di shoppare su Clash Royale ok, va bene, lo sapete ed è tutto bello, tutto figo e il resto ora, il punto è, se voi andate a chiamate un operatore, direi Google+, oppure tutto, cioè Google+, probabilmente o almeno così mi hanno detto a me, e questo, e gli dite, guardate, mi hanno bazzato, brazzato i soldi dalla carta, cioè nel senso hanno fatto acquisti senza il mio consenso e loro in linea di massima dovrebbero ridarti, riaccreditarti il cash questa procedura mi hanno detto anche che si può fare più di una volta nel senso che voi potete utilizzare questo sistema più e più volte per farvi ridare il cash che avete utilizzato quindi ti può spendere 100 euro, vi fate lo chest opening e poi rispendete altri 100 euro, vi fate l'altro chesto, una roba del genere che dovrebbe essere così, tipo ok, bene bastardo, cane, ladro, lezzo, guardate come ci ha gelato male comunque questo è quanto, insomma, l'idea è questa tutto qui non lo so se, cioè, non è legale, non si può fare sta roba del genere, quindi non lo fate assolutamente perché finisce così però a titolo informativo sì perché potrebbe funzionare, mi hanno detto alcune persone, mi hanno scritto dice, guarda, free, funziona se utilizzi sta roba quindi, no, cioè, non lo fate non lo fate, non lo fate, non lo fate solo per dirvi che c'è sta possibilità todo qua, todo qua va bene ragazzoli, per il resto che mi raccontate? no, vabbè, stop, niente ora, tentiamo di c'è sta partita perché gli stiamo rompendo discretamente il culo ma metti i goblinetti qua, questi li metti qui oh, 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 no, lì no, lì, cazzo, no ho perso una partita a caso ho perso una partita per sto motivo ma boia vacca, che sfiga, dai, cazzo ma boia vacca, dai c'è cafonata ok, va bene bim, bella bet, bella botta, ok non male ora direi di partire qui di qui a sinistra tentando di eludere un po' la sorveglianza bim ok, ovviamente si inizia a spaccare male utilizzare questo stronzo qua per fargli male mettere anche un pecchino di qua questi li andiamo a mettere qui bim questi pure li zappiamo un attimo tac ci metti questo qua bene, li abbiamo allontanati qua a dovere non è, no, che stronzo che stronzo che mi cambia coso, dai ma che cazzo, dai ma boia vacca ma boia vacca questo, mettilo qui boia vacca dai, che è sta cafonata che gran cafonata che hanno fatto cioè vabbè, ma boia ma dai ma dai è una bella partita che c'hai culo come al solito perché mi calmi mi muore questo comunque eh, tornando al discorso di prima raccontatemi un po' se vi è funzionato il tutto ok? quindi ditemi un po' se effettivamente cioè no cioè se l'avete fatto se già lo avete fatto fatevi un feedback se non lo avete fatto non lo fate ok? va bene? perfetto che la massima si svolge proprio come un reclamo dice guardate mi hanno brazzato i soldi cioè hanno fatto acquisti non so se dovete specificare chi magari o mio figlio che è stronzo e ha comprato 600.000 euro su Clash Royale oppure magari proprio mi hanno fottuto la password e hanno acquistato contenuti su un gioco a quale io non gioco ergo il rimborso dovrebbe essere previsto perché dovrebbero offrire questo tipo di servizi e sì esatto una roba del genere ok perfetto questo è quanto comunque stiamo facendo un botto di danni ok attenzione oh oh ok buono perché non li prendi perché Cristo Santo non lo prendi perché Cristo Santo perché cazzo perché fai queste figure di merda eh ti piace? porca miseria porca va bene fanno fare queste figure di merda sti cosi spaccato no abbiamo resistito però certo siamo messi stramale boia questo è forte comunque non è malissimo ah poi ho fatto la cazzata all'errore perché lui è libero da no comunque li abbiamo fatto abbastanza male forse la tiriamo anche giù sì la tiriamo giù buono molto molto bene ottimo come on ci tirerà giù anche lui una torre non mi interessa sbatti che mi frega oddio che ansia sto mouse comunque va 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 sistemato perché ha problemi ha seri problemi sto mouse vediamo quanti botte gli danni un paio di botte vanno più che bene stiamo in vantaggio questo è l'importante ora io dirò di ritirare i barbari qua tanto prima che me li spacca passerà un po' di tempo io metto anche il cannone per sicurezza dai devialo non l'ha deviato ho messo il cannone abbastanza a caso ok buono molto molto bene molto molto bene siamo circa pari con le torri con i cosi delle torri io direi di partire un attimo con questa stronzata qua la principessina ma delle volte non mi prende il tick del mouse cioè il coso del mouse quindi dà abbastanza fastidio allora qui con gli arcieri io direi di far partire degli arcieri qua dietro direi di romperli male questi ok mettere questo qui va bene un po' di romperli quanto ti pare non mi interessa e la madonna gli arcieri che utilizzate figli miei figli si e la madonna ok no niente scarica non voglio la scarica voglio lanciare questo domatore di cinghiali perdo l'elisira a ruota porca miseria ok mettici il cannone e vedrai che non vai da nessuna parte mi stanno chiamando attenzione cioè il problema è che e allora mettili dove cazzo ti pare fai come ti pare e non si può giocare e non si può giocare vabbè fanculo il problema è questo vabbè detto questo ragazzoli per quanto riguarda la questione e e la basta cioè stop fine chiuso non provate questo metodo perché madonna i messaggi che mi arrivano ma mica si può fare sta roba cioè arrivi lag no questo è il il nostro clan come al solito si ma non mi cambiate le cose oggi ho impostato qualche ragazzo per la gestione del clan però devo dare ancora delle direttive io che poi darò magari in un video comunque detto questo questo è un altro deck sto utilizzando però preferisco non giocare con sto mouse vi faccio vedere gli ultimi vittoria scocca queste sono le due sconfitte vittoria sconfitta non sto messo tanto bene a coppe con questo deck alla fine andava abbastanza bene io ho ecco il cazzo di come si chiama questo qua il boscaiolo è davvero una bestia costa 4 costa quanto anche quanto il pecca pensavo costasse di meno però secondo me è straforte peccato non sono ancora riuscito a trovarlo o magari trovarlo nello shop non ho avuto mai la possibilità di comprarlo però è figo un sacco cioè secondo me ne vale veramente la pena è fighissimo di giorno caccia al tronco la notte grande dalla caccia al tronco la notte una sola bottiglia c'era riusciata furia dappertutto va bene basta ora detto questo un'altra partita vorrei evitarmela vorrei evitarla di fare 3200 coppe faccio vedere anche il mio record personale di coppe che è stato record vittorie ah adesso si fa vedere anche il record vittorie scontri giocati carte ah questo è il torneo ok record di vittorie ah ma questo per le sfide ok carte trovate 60 su 62 non è le carte che ho donato trofeo maggiori 3630 che non è male con 3 corona ho vinto 450 revolte contro il corone e vabbè so che non vi frega un cazzo perché queste statistiche sono accessibili a tutti però non faccio ve l'ho detto un'altra partita perché vorrei evitare di perdere malamente comunque non so come sia voglio un attimo informarmi merito a quello che vi dicevo prima su google play riconoscimenti cambia nome guida assistenza guida genitori privacy termini servizi una roba del genere resta andare da ste parti per utilizzare le cose per fare questo tipo di di segnalazione e roba varia però vabbè come al solito ve lo dico non lo fate ragazzi vi penso che per questo video possa essere tutto per i ragazzi se non riconosciano mi piace se vi è piaciuto di iscrivervi al canale se non vi è già fatto di condividere il video su facebook e farmi ciò di persone mi raccomando passate in tutti i link in descrizione facebook instagram e telegram ci siamo come al solito a un prossimo video ciao a tutti ragazzi